Adesso Ramondino non ferma la partita, Candy arriva a Dauma per il primo tiro da tre punti della sua partita. Ecco, come dicevo prima, attenzione ai giocatori di talento di Tortona, uno a questo signore qua. Trento che adesso deve tornare a difendere sull'attacco di Tavernelli, lo scarico per Dauma si alza da tre, non sbaglia Mike Dauma ed è sorpasso. C'è Spagnolo proprio in difesa su Semai, Criston, cambio difensivo non effettuato, c'è spazio per Mike Dauma che si alza per il tiro da tre giù di gambe. Poi però Flaccadori riesce ad andare al tiro, sbaglia, rimbalzo di Kane, Criston dall'altra parte, il contropiede per la schiacciata di Mike Dauma. Criston palleggia sul posto, poi si alza, appoggia il tabellone, sbaglia però Kane prende un gran rimbalzo per Mike Dauma che si alza per il tiro da due.